Le malattie che mettono a rischio la vista riguardano oltre 3 milioni di italiani e ancora di più sono i soggetti a rischio perché l'incidenza di glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatia aumenta assieme all'età e alle malattie croniche. Queste e molte altre condizioni sono asintomatiche negli stadi iniziali ma possono essere curate se diagnosticate in tempo. Sensibilizzare alla prevenzione oculare è oggi diventato ancora più importante. Anche per superare l'effetto negativo della pandemia che ha ridotto il numero di controlli. E' stato questo il messaggio lanciato in occasione della giornata mondiale per la vista che anche a Potenza ha visto un'ampia partecipazione. Visite gratuite per quante hanno partecipato all'iniziativa frutto della sinergia tra il Centro Servizi Artemide e l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Parte da Roma in una conferenza stampa presso la nostra sede nazionale il motto c'è solo un modo di vedere il futuro. Ed è inevitabile, è inutile che ce lo neghiamo. Ormai noi sono i danni che stiamo diffondendo la cultura della prevenzione. La prevenzione credo sia il mezzo più efficace, l'arma più potente per poter evitare danni irreparabili alla vista per alcune patologie che purtroppo se non vengono attenzionate in tempo possono portare sicuramente anche alla perdita totale della vista. Ma quali sono le principali patologie riscontrate? Notiamo difetti di vista nei bambini di 3 o 4 anni, poi andando avanti degli anni vediamo se viene fuori la miopia o qualcos'altro. Andando ancora avanti si può trovare il glaucoma, poi più in là si trova la cataratta e più in là ancora si trovano le maculopatie, quelle dell'età senile. La prevenzione è fondamentale in molti casi. In molti casi è fondamentale, se si accettano le maculopatie senili dove ancora non si sa quello che si deve fare perché non esiste una terapia mirata, per tutto il resto la prevenzione ci permette di risolvere almeno l'80-90% delle patologie.